Il condannato a morte, Maupassant Il vero, talvolta può non essere verosimile. Ed eccone un altro esempio. Tutti quei cittadini che tornano a Parigi in questa stagione conoscono quella lunga teoria di graziosi città che va da Marsiglia a Genova. Vi si arriva lasciando le spiagge del nord. Si torna via ai primi di aprile proprio nel momento giusto quando stanno per sbocciare veri e propri mazzi di fiori e quando tutta la campagna dei dintorni è un grande giardino e anche le rose e gli aranci fioriscono. Tra tutti questi luoghi se n'è uno particolarmente prediletto. Non è una città ma qualcosa di più. È un regno, un regno piccolissimo. Una specie di granducato di Gerolstein Arroccato su uno scoglio fiorito che porta sul dorso un gruppetto di case bianche e il palazzo del principe il minuscolo stato sovrano di Monaco obbedisce a un sovrano più indipendente del re Macoco più autoritario di sua maestà Guglielmo di Prussia più cerimonioso del fu Luigi XIV di Francia. Senza timori di invasioni o di rivoluzioni egli regna in pace con etichetta sul suo piccolo popolo felice tra le cerimonie di una corte in cui si usa ancora la riverenza. Ha il suo generale e i suoi ottanta soldati il suo vescovo e il suo clero il cerimoniere che annuncia gli ambasciatori proprio come il nostro Grevy e tutta una serie di quei funzionari dei titoli magnifici che si tramano sempre intorno ai sovrani assoluti convinti della loro maestà. Questo monarca tuttavia non è né sanguinario né vendicativo e quando manda qualcuno in esilio poiché anche lui manda la gente in esilio la misura viene applicata con una grande quantità di riguardi. Bisogna forse portare le prove? Un giocatore incallito in un giorno di sfortuna insultò il sovrano fu espulso con un decreto. Per tutto un mese quel giocatore andò girando intorno a quel paradiso proibito temendo che la spada dell'arcangelo si rivelasse sotto forma della sciabola di un gendarme. Un bel giorno si fece coraggio varcò di nuovo la frontiera e in men che non si dica raggiunse il cuore del paese ed entrò nel casino. Ma improvvisamente un funzionario lo ferma «Signore, non siete stato mandato in esilio?» «Sì, signore, ma riparto con il primo treno». «Se le cose stanno così, benissimo, potete entrare». E ogni settimana quello ritorna e tutte le volte lo stesso funzionario gli fa la stessa domanda alla quale quel tale dà la stessa risposta. Ma dove trovarla? Una giustizia più mite di questa. Eppure negli anni scorsi è avvenuto in quel regno un fatto molto grave e affatto insolito. Un assassino. Un uomo, un monegasco, non uno di quegli stranieri che vanno e vengono e che si incontrano a legioni su quelle coste. Un marito, in un accesso d'ira, uccise la moglie. Sì, sì, la uccise senza alcuna ragione, senza un pretesto accettabile. L'emozione fu generale in tutto il Principato. La Corte Suprema si riunì per giudicare questo caso eccezionale. Non si era mai verificato un assassino e il miserabile fu condannato a morte all'unanimità. Il sovrano indignato ratificò il verdetto. Non restava altro da fare che giustiziare il criminale. Ma a questo punto sorse una difficoltà. Il paese non aveva né carnefice né ghigliottina. Che fare? Su proposta del Ministero degli Esteri, il principe intavolò trattative con il governo francese per ottenere in prestito un tagliatore di teste unito del suo apparecchio. Lunghe discussioni ebbero luogo a Parigi, nella sede del Ministero. Alla fine si rispose, inviando la nota spese per il trasferimento degli arnesi e del tecnico. Il tutto ammontava a 16.000 franchi. Sua maestà monegasca valutò che l'operazione gli sarebbe costata troppo. L'assassino non valeva quel prezzo. 16.000 franchi per il collo di un lazzarone, ma neanche per sogno. Allora, la stessa domanda fu fatta al governo italiano. Un re, un fratello, non si sarebbe sicuramente mostrato esigente quanto una repubblica. Il governo italiano mandò un conto che ammontava a 12.000 franchi. 12.000 franchi! Sarebbe stato necessario imporre nuove tasse, all'incirca due franchi per abitante. Ce ne sarebbe stato abbastanza per provocare inauditi turbamenti nello Stato. Si pensò allora di far decapitare quel malcapitato da un soldato semplice. Ma il generale, quando fu consultato, rispose esitando. I suoi uomini, forse, non avevano pratica sufficiente dell'arma bianca per assolvere un compito che richiedeva invece una grande esperienza nel maneggiare la sciabola. Il principe convocò di nuovo la corte suprema e ad essa sottomise il caso imbarazzante. Si discusse a lungo, ma non si giunse a niente di pratico. Alla fine, il primo ministro propose di commutare la pena di morte in carcere a vita e la misura fu adottata. Ma non c'era la prigione. Sarebbe stato necessario costruirne una e perciò fu nominato un carceriere che prese in consegna il prigioniero. Per sei mesi tutto andò bene. Il carcerato nel suo sgabuzzino dormiva tutto il giorno su un paglierizzo e il guardiano faceva lo stesso su una sedia davanti alla porta guardando i passanti. Ma il principe è economo. Questo è uno dei suoi piccoli difetti. Egli chiede rendi conto delle più piccole spese dello Stato. Non si tratta di una lista tanto lunga. Gli fu fatta recapitare dunque la nota delle spese relative alla istituzione di una funzione nuova, cioè il mantenimento della prigione, del prigioniero e del sorvegliante. Il trattamento di quest'ultimo gravava in maniera particolarmente pesante sul bilancio del sovrano. Il principe dapprima si mostrò seccato, ma quando pensò che la cosa poteva durare per sempre, il condannato era giovane, chiese al suo ministro della giustizia di prendere le misure necessarie per sopprimere questa spesa. Il ministro consultò il presidente del tribunale e tutti e due convennero che bisognava sopprimere l'incarico del carceriere. Il prigioniero, invitato a sorvegliarsi da sé, non avrebbe mancato di evadere e così tutto si sarebbe risolto con generale soddisfazione. Il carceriere fu dunque mandato a casa e un tale che aiutava nella cucina del palazzo ebbe l'incarico di portare da mangiare al colpevole mattina e sera. Il prigioniero non fece alcun tentativo per riconquistare la libertà. Ora, un giorno, siccome si erano dimenticati di portargli il cibo, se lo videro arrivare tranquillamente per reclamare e da quel giorno in poi prese l'abitudine all'ora del pranzo per risparmiare un viaggio al cuoco di venire a prendere i pasti con la servitù della quale diventò anche amico. Dopo aver mangiato faceva una bella passeggiatina fino a Monte Carlo. Qualche volta entrava al casino per rischiare cinque franchi sul tappeto verde. Quando vinceva si concedeva un buon pranzo in un ristorante rinomato e poi tornava in prigione chiudendosi con cura la porta alle spalle. Non capito mai che dormisse fuori una sola volta. La situazione si faceva difficile e non per il condannato ma per i giudici. La corte si riunì ancora una volta. Fu deciso che il criminale sarebbe stato invitato ad uscire da Monaco allorché gli fu notificata la sentenza e gli rispose semplicemente. Mi fate ridere. Che cosa sarà di me? Io non ho niente per campare. Non ho famiglia. Che cosa volete che faccia? Ero condannato a morte ma voi non mi avete giustiziato e non ho detto niente. Poi fui condannato al carcere a vita e messo nelle mani di un carceriere e voi mi avete tolto il mio guardiano. Io non ho detto niente. Oggi mi volete cazzare dal paese. no questo no io sono prigioniero vostro prigioniero giudicato e condannato da voi voglio scontare con fedeltà la mia pena resto qui. La corte suprema non seppe più che dire. Il principe montò su tutte le furie e ordinò che si prendessero nuove misure. Si ricominciò a discutere e allora fu deciso di offrire al condannato una pensione di 600 franchi per andare a vivere all'estero e lui questa volta accettò. Ha preso in affitto un piccolo appezzamento di terreno a 5 minuti dallo stato del suo vecchio sovrano e vive felice sulla sua terra coltivando i legumi e disprezzando i potenti. Ma la corte di Monaco che ha tratto ammaestramento con un po' di ritardo da questo esempio si è decisa a trattare con il governo francese ora manda a noi i suoi condannati e noi li mettiamo al fresco percependo una modesta retta. Negli archivi giudiziari del principato si può vedere la sorprendente sentenza che fissa la pensione di quel mascalzone e lo obbliga ad uscire dal territorio monegasco. Certificasi conforme a verità in ogni sua parte. Grazie a tutti.